Ehi, vediamo se reggi il confronto contro questa onda si esce Nuovo Samurai Boy, chiamami Kai, 47 eroni, sono nel giorno perfetto come del giudizio cara, sono i orologi giganti che mi schiacciano, questi dubbi sono fini, incarbuliati, ne è cranio, ecco perchè quando scrivo, è rap, aprendo il cervello umano Questa potenza proviene dal sottosuolo Michael ed è periodicamente uguale agli incastri su microphone tecnologicamente avanzato, in confronto a vostro prototipo io ho Air Force base, alimentato da un titanio che porta la formula di Newtonense, quando scrivo tre occhi tensi, ogni volta che scrivi l'obiettivo è quello di incasinarmi, il quoziente intellettivo ecco perchè ribatto, se il rap in codice gli orologi vanno al contrario, print, sei claro scrivi in una prigione fatta di cemento armato, perchè fumo dinamite, scrivo bombe C4, è catastrofe, spiriti, chiamami Cristofero, stile, saue, ferio, non faccio musica di plastica ai tessi, io scrivo plastico, fette di master dei masters yo, fette di master dei masters